Se stai avendo difficoltà ad aprire il gioco Warhammer 40.000 Space Marine 2, il gioco che è uscito oggi 9 di settembre, e se stai avendo problemi proprio all'avvio, può essere un errore nel tuo computer che ha qualche driver obsoleto che va aggiornato e vedere se si avvia il gioco. Quindi in questo caso possiamo andare direttamente su impostazioni, quindi scrive direttamente grafica, impostazioni grafica, scendiamo fino giù, ovviamente dobbiamo utilizzare la nostra scheda video per giocare, quindi avviare il gioco con la nostra scheda video. Andiamo su sfoglia e andiamo così ad inserire il programma .exe di Space Marine, quindi andiamo fino a giù fino a trovare il nostro gioco Space Marine 2.exe, ovviamente nella sua cartella devi trovare il programma che finisce come .exe e fai aggiungi, una volta aggiunto vai su opzioni ed eccolo qua, grafica preferita, inseriamo le prestazioni elevate e facciamo salva. E chiudiamo qua. Se non dovesse bastare andiamo direttamente sulle pagine che ti ho lasciato in descrizione che ti porterà sulla pagina di Microsoft Visual C++, vai così a scaricare il Visual Studio fino al 2022. Vai a prendere il x86, il x64 per il tuo sistema operativo, quindi visto che ho un sistema operativo a 64 bit, prendo il 64 bit. Se hai quello a 32, prendi il x86. Puoi anche installarli tutti e due, quindi io adesso vado a scaricare e installare questo qua da 64. Modifica installazione, tu devi fare installa, io invece devo fare ripristina perché lo tengo già installato sul mio computer e faccio chiudi. Una volta fatto puoi aggiornare direttamente i driver della tua scheda grafica o hai Nvidia oppure AMD Software Adrenaline Edition che ti permette di fare dei cambiamenti sulla tua scheda video e aggiornare anche i driver sia su AMD Software che quello di Nvidia App. Per Nvidia App questo è il programma, vai su driver, cerca così l'aggiornamento da fare, drive game ready, scarichi e installi l'ultimo aggiornamento rilasciato. Se invece ti trovavi meglio con i vecchi driver di Nvidia, questa è la pagina che puoi fare per te, scegli così la tua scheda grafica, per esempio io scelgo la mia scheda grafica, quindi vado a mettere la GTX 1660 Super, eccola qua. Cerco così il mio sistema operativo, metto la mia lingua e faccio trova. E su questo manuale dei driver trovi tutti i driver, tutti i driver, vedi altre versioni, anche quelli vecchi, aprile, marzo e febbraio. L'ultimo dato di rilascio è su questa pagina di febbraio 2024 e poi c'è quello del 20 di agosto che tengo già scaricato e installato. Vai su veti, scarichi e installi così questo driver. Come ultimo procedimento passiamo direttamente al DirectX, quindi web installer DirectX and user runtime. Da scaricare e installare. Accetto il contratto, faccio avanti, tolgo questo bing toolbar e installo così DirectX per la mia scheda video. E facciamo fine. Se non dovesse funzionare, vai direttamente sul tuo gioco, tasto destro sopra, mostra attribazioni, proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione in schermo intero. Eseguiamo questo programma sempre come amministratore e facciamo applica e fai ok. Quindi prova a usare uno di questi metodi che ti possono veramente servire in generale su tutti i giochi sul tuo sistema operativo. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.